Con il vincitore del Gran Premio Liberazione Iliacoscevoi, vittoria inaspettata, ma ci hai creduto fino alla fine? Sì, 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 avevo la gamba buona dell'inizio fino alla fine, ho creduto e basta. Quando è stata importante la tattica dell'Australia? Ma io penso che hanno corso molto molto bene, poi in finale ho mancato un po' quello che era con me, però oggi ero più forte giocatore. Cosa significa questa vittoria per te? Guarda, per me è una vittoria storica, per me e per la società, perché è la nostra prima vittoria quest'anno, sono molto molto contento. Ok, grazie mille.